Consiglio monotematico fiume a Palazzo d'Aimmo sulla sanità, Iorio si schiera con la proposta del PD per istituire una commissione speciale. Toma chiede di assumersi l'impegno di parlare con Roma e Greco tira fuori i numeri per diminuire il budget destinato ai privati. I comitati in presidio all'esterno chiedono la tutela degli ospedali. La svolta nelle indagini sull'omicidio di Serena Mollicone tocca anche il Molise. La procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio per 5 persone, tra cui il figlio dell'ex comandante dei Carabinieri di Arce, titolare di un negozio a Venafro. Nel 2001 la 18enne venne trovata priva di vita in un campo per gli investigatori, venne aggredita in caserma. Trasportava 80 grammi di eroina pronti per essere spacciati a Campobasso, latitante campano arrestato dai Carabinieri. Scontro sulla statale 85 Venafrana, due feriti all'ospedale veneziale, uno dei quali minorenne, pesanti rallentamenti al traffico. Molise Wellness Destination è il titolo del progetto promosso dal consorzio Tump, la presentazione alla stampa nell'incantevole scenario della fonte del benessere resort, il centro Messeghedi Castelpetroso. La fibra ottica arriva a Campobasso, entro 5 mesi si potrà navigare più velocemente, Gravina punge l'ex sindaco Battista, lavori su strade e marciapiedi sapendo che si sarebbe dovuto intervenire di nuovo. Infine lo sport, il calcio, arrivi Sondoli, il Campobasso fa bella figura contro la Juve Stabia davanti a tanti tifosi, intanto arriva in rosso-blu il centrocampista Tenkorang. Bastogirardi, dilucente e raggiante, manca un centravanti da 15 gol, intanto noi facciamo calcio mentre altri non si iscrivono. Ben trovati, nuovo appuntamento con le news di Teleregione, c'è la sanità in apertura, consiglio regionale monotematico fiume sull'argomento. Senza la presenza dei commissari Giustini e Grossi si è discusso di tre proposte, la maggioranza è inizialmente spaccata, alla fine ha detto sì a una proposta del PD, c'è stato quindi un accordo per indicare una data certa per sentire la struttura commissariale in aula, ma sentiamo, ripercorriamo quanto accaduto oggi in Consiglio con il servizio. Il Consiglio regionale si spacca pure sulla sanità, ma alla fine c'è la sintesi tra centrodestra e PD, con Facciolla e Fanelli che ottengono una vittoria, ovvero l'istituzione di una commissione speciale e un documento con cui si indichi una data certa per sentire i commissari. In aula, in un'assemblea fiume senza Giustini e Grossi che avevano declinato l'invito, si è discusso di tre proposte, la prima a firma del Movimento 5 Stelle. I grillini hanno proposto uno stop immediato all'extra budget destinato ai privati convenzionati, non quello per i pazienti molisani, ha precisato il portavoce greco, ma la parte più sostanziosa destinata agli utenti di fuori regione. Risparmieremmo 39 milioni di euro annui che ci permetterebbero di uscire dal piano di rientro. L'idea di Greco ha fatto scaturire una bagarre politica con Nico Romagnolo e Quintino Pallante che hanno ricordato quanto i commissari siano stati voluti proprio dal gruppo 5 Stelle, noi curati dal nostro carnefice, le dichiarazioni del sottosegretario. Toma ha rincarato poi la dose contro i commissari, una scorrettezza che non siano qui ha detto, l'istituto va eliminato perché ha fallito. Il futuro sarà, se tutto va politicamente nel verso in cui deve andare, che le regioni in piano di rientro siano affiancate da cosiddette regioni benchmark, regioni virtuose, che l'agenas sia l'organo tecnico che aiuta a scrivere un post e a portare avanti un piano di rientro e che Presidente, Consiglio e Giunta siano gli organi politici che, coadiuvati da queste altre enti, da queste altre entità, portino avanti l'uscita dal piano di rientro. Le regole per l'ingresso del piano di rientro e quelle di uscita cambieranno, sono cambiate perché i commissari non funzionano. Il governatore ha ribadito poi la sua idea di sanità per il Molise. Un'idea di primo livello a Campobasso, due di secondo a Termoli e Isernia, ospedale di comunità a Venafro e Larino e presidio d'area disagiata ad Agnone. Ha rilanciato poi l'idea di una clinica universitaria con tutte le specializzazioni. Toma ha chiesto infine all'Aula di votare per affidargli l'impegno di adoperarsi in tutte le sedi, in modo da ottenere un sistema complementare tra pubblico e privato. La maggioranza si è divisa, Iorio è stato il primo a defilarsi, avendo dichiarato di appoggiare la proposta del PD, che prevedeva appunto una data certa per sentire in consiglio i commissari e l'istituzione della commissione speciale, affinché, come ha spiegato il consigliere Facciolla, tutti gli stakeholder potessero avere un ruolo attivo. Giustine Grossi, medi esecutori del tavolo tecnico, ha detto Facciolla, da qui usciamo senza alcun passo in avanti. Anche a Cefaratti non era piaciuta la mozione della maggioranza, perché non contemplava appunto una data certa per audire i commissari. Gli assenti hanno sempre torto, ha detto, noi siamo qui anche a Ferragosto, vengano pure. In conclusione, il voto sull'accordo DEM-Centrodestra. E alla fine la mozione, frutto dell'accordo tra DEM-Centrodestra, è stata votata anche dai 5 Stelle, quindi passata all'unanimità con 19 voti su 19, mentre la mozione dei pentastellati, che tra le altre cose prevedeva tagli alle strutture private convenzionate, è stata votata naturalmente dai grillini, con il supporto del PD. Questo quanto è avvenuto nel pomeriggio. Ora facciamo un passo indietro e vediamo che aria si respirava in mattinata con il presidio dei comitati all'esterno di Palazzo Daimmo. Gli attivisti hanno anche, come avete notato, assistito ai lavori dell'Assemblea. Ci sono tutti i rappresentanti dei comitati che da tempo si battono per difendere la sanità pubblica, per non lasciare che il privato prenda il sopravvento, per evitare la definitiva chiusura di reparti in perenne sofferenza. Non è più una lotta di pochi per difendere l'ospedale sotto casa, la loro dell'arresto. Il problema dell'offerta e della qualità della sanità è comune a tutto il Molise e ai molisani. Hanno atteso l'inizio dei lavori di Palazzo Daimmo per capire quali soluzioni propone la politica che certo non può agire direttamente per via del commissariamento, ma può di contro prendere una posizione forte. Noi chiediamo un servizio sanitario che sia efficiente e efficace per tutto il territorio. Non è una questione solo territoriale. Per il Santimodi ormai viviamo una situazione di criticità massima e non è soltanto il punto nascita, ma tutte le specialisti che soffrono in questo momento, persino il pronto soccorso. Il Comitato Pro Cardarelli non fa nessuna richiesta al Consiglio regionale. Il Comitato Pro Cardarelli è qui per ascoltare che cosa ha da dire la politica a cui compete un discorso di tipo programmatorio su quello che è il destino della sanità del Molise. Noi abbiamo le nostre idee, le abbiamo dichiarate, le abbiamo scritte, le abbiamo promulgate insieme ai comitati. A questo punto stiamo qui perché siamo curiosi. Conoscendo fatti e persone mi aspetto una piccola cosa, una fuga da parte dei consiglieri i quali non vogliono assumersi nessuna responsabilità in questo senso, da nessuna parte. perché c'hanno adesso la valvola di sfogo, dice non sono stati, è stato cano, sono stati e sono stati commissari e non prendono posizione. Cosa che noi chiediamo, vogliamo sapere che cosa voi intendete per sanità pubblica, sanità privata, come devono essere divisi questi fondi sanitari al pubblico e al privato, come si fa per uscire dal debito e perché si continua a fare il debito se non c'è più sanità pubblica, questo vorremmo sapere. Oggi siamo qui a presenziare e a far capire ai nostri politici che la nostra attenzione è alta e anche l'attenzione dei cittadini, noi siamo cittadini, né più né meno che cittadini, oltre a essere parte di un comitato spontaneo, siamo cittadini e vogliamo far capire alla politica che le loro decisioni ci interessano. Non ci aspettiamo granché, detto sinceramente, da questo Consiglio regionale. Speriamo che non sia solo un siparietto politico, ma che possiamo capire un po' con le intenzioni di questo Consiglio regionale e dei vari consiglieri regionali. Con loro anche i rappresentanti dell'associazione Beni Comuni Veneziale Isernia, presenti a Campobasso con Antonella Mandrone. Prima dei lavori la politica, tutta senza distinguo, pare compatta nel difendere i diritti dei morisani, costituzionalmente garantiti. Facciola, non c'è colore politico in questi casi? Mi sembra proprio di no, ma noi l'abbiamo detto da tempo, l'abbiamo detto anche in qualche modo assistendo i comitati nelle iniziative che assumevano sul territorio e restiamo di questa idea. La sanità è qualcosa che deve impegnare qualsiasi rappresentanza istituzionale di qualsiasi partito e quindi non faremo nessuna battaglia di retroguardia, men che meno partigiano. La mia posizione è quella di difendere la sanità pubblica perché è sancita dalla Costituzione e quindi siamo sempre dalla parte dei cittadini. Spero che si giunga finalmente alla conclusione per far dire al Consiglio regionale quello che pensa. Avrei preferito un percorso legislativo, ma almeno una mozione, un indirizzo, una linea guida io credo che debba essere assolutamente approfondita e eseguita. Restiamo a parlare di politica, in particolare dei mal di pancia interni alla maggioranza di centrodestra, ne abbiamo parlato con il governatore Toma e in particolare gli abbiamo chiesto conto dell'ultimatum che è arrivato nelle scorse ore al suo indirizzo da parte di Michele Iorio. I mal di pancia tra gli esponenti del centrodestra a Palazzo Daimmo ormai sono sempre più frequenti e se prima il bersaglio era solo l'assessore Mazzuto, adesso anche il governatore Toma deve incassare qualche colpo. L'attacco frontale arriva da uno dei big dell'assemblea Michele Iorio. L'ex governatore, come riportato da Teleregione qualche giorno fa, parrebbe intenzionato a togliere il sostegno alla maggioranza. La resa dei conti ci sarà a settembre, entro il rientro dalle ferie estive Iorio pretenderà la tanto agognata verifica politica e quindi che all'interno dell'esecutivo si trovi uno spazio per lui. L'assessorato del resto lo sta chiedendo da tempo e in più occasioni ha fatto notare a Toma quanto sia necessario serrare le fila. Dal canto suo il presidente della giunta non si scompone, crede fortemente che si potrà trovare una quadra nel segno del programma elettorale che ha condotto alla vittoria, allo schieramento. Ci sono ancora delle fibrillazioni in maggioranza e il consigliere Michele Iorio addirittura le ha dato una sorta di ultimatum. A settembre deve esserci questa revisione della giunta, altrimenti lui andrà in minoranza. Cosa risponde? Io non l'ho sentita questo ultimatum, per la verità mi sta dando una notizia e vuol dire che parlerò, come parlo spesso, con il consigliere Iorio. Io vado avanti per le linee programmatiche che ho presentato al Consiglio e che il Consiglio ha approvato, altra guida non ho se non le linee programmatiche. L'ultima polemica in ordine di tempo, quella sulle nomine di Moliseacque, non rappresenta per Toma uno scandalo e ai giornalisti risponde in maniera serafica. Il Presidente del Consiglio, considerato che il Consiglio regionale non si esprimeva, ha agito come la legge gli imponeva di fare con i poteri sostitutivi e ha nominato delle persone di tutto rispetto. Le nomine le ha fatte lui, mi sembra che siano delle nomine che vanno nel senso della ricostituzione del Consiglio di amministrazione di Moliseacque. Moliseacque ha bisogno di un Consiglio di amministrazione, ha bisogno di un rilancio e di una revisione. Ecco, possiamo andare avanti sul rilancio e sulla revisione. E allora Toma ha detto che avrebbe chiamato Iorio, dal prossimo contributo molto breve scopriamo se si sono sentiti. Senta, dopo le sue picconate alla maggioranza, Toma ha dichiarato ieri parlerò con Iorio. Vi siete sentiti? No, ancora no, ancora no. Aspetto di sapere. Ed ora dopo quest'ampia pagina politica passiamo alla cronaca, parliamo dell'omicidio di Serena Mollicone, un caso irrisolto da 18 anni che ora è ad una svolta perché la procura di Cassino che è competente su questo tragico episodio ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque persone. Tra gli indagati c'è anche il titolare di un negozio di Venafro. A febbraio la svolta, a luglio, l'istanza per aprire il processo a carico dei presunti responsabili. L'omicidio di Serena Mollicone coinvolge anche il Molise perché la procura di Cassino, che ha riaperto le indagini dopo anni di depistaggi, ha chiesto il rinvio a giudizio per Franco Mottola, ex comandante dei carabinieri di Arce, per la moglie e per il figlio, Marco, titolare di un negozio da circa 15 anni a Venafro. Coinvolti anche due militari dell'arma che erano presenti quel giorno, il primo giugno del 2001, nella caserma di Arce, lì dove secondo gli inquirenti avvenne l'aggressione brutale. Il reato ipotizzato è omicidio in concorso. Per i due carabinieri si ipotizza anche l'istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzzi e il favoreggiamento. Il procuratore di Cassino, Luciano De Manuele, ha spiegato i dettagli dei passi compiuti dal suo ufficio. Riteniamo di aver provato che Serena Mollicone è stata uccisa nella caserma dei carabinieri di Arce, si legge in un comunicato ufficiale. Con una spinta contro una porta, data la riscontrata compatibilità tra le lesioni riportate dalla vittima e la rottura di una porta collocata in caserma, parimenti è stata accertata la perfetta compatibilità tra i micro frammenti rinvenuti sul nastro adesivo che avvolgeva il capo della vittima e il legno della suddetta porta, così come il coperchio di una caldaia della caserma. Il procuratore cita anche le dichiarazioni del brigadiare Tuzzi che nel 2008 disse di aver visto Serena entrare in caserma sette anni prima e di non averla più vista uscire. E dalla ricostruzione fatta sin da subito, pare che la diciottenne fosse andata in quel presidio dell'arma per denunciare il figlio del comandante. Sempre secondo l'inchiesta, dopo diverse ore la ragazza sarebbe stata trasportata in un campo legata e imbavagliata sul corpo. Vennero trovate tracce di percosse e la morte fu causata per asfissia. Accertamenti scientifici si sono abbinati alle dichiarazioni di 118 testi per la procura. Sono prove che consentono di sostenere l'accusa e di arrivare alla verità che la famiglia chiede da quasi due decenni. I carabinieri della stazione di Campobasso, in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo e radiomobile, hanno arrestato un 24enne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione e fini di spaccio di quasi 80 grammi di eroina suddivisa in pezzi solidi. Il giovane circolava a velocità sostenuta nel centro del capoluogo, a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Non si è fermato allo stop dei militari, ne è nato un inseguimento sulla tangenziale, fino a quando il ragazzo ha abbandonato l'auto, è scappato lungo le campagne, è proseguito quindi l'inseguimento dei militari che sono riusciti poi a bloccarlo e a seguito di ulteriori verifiche hanno scoperto che era destinatario di un provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Napoli, che disponeva alla sostituzione dei domiciliari con la carcerazione in relazione al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso che aveva commesso in campagna. Si era reso irreperibile negli ultimi giorni, è stato rintracciato, come detto arrestato e poi tradotto nella casa circondariale di Via Cavour. Grave incidente questa mattina all'imbocco della variante di Venafro in territorio di Pozzilli, un vecchio modello di Ford Fiesta è entrato in collisione con una lancia Fedra per cause da ricostruire ingenti, danni ai veicoli che sono andati completamente distrutti nella parte anteriore, due feriti trasportati all'ospedale veneziale di Isernia, uno di loro era minorenne, un terzo è stato medicato sul posto. Polizia stradale e caraviglieri di Venafro hanno proceduto ai rilievi e a regolare la viabilità che era molto intensa nelle ore della mattinata, il traffico ha subito pesanti rallentamenti, il personale dell'ANAS ha rimosso i detriti dalla carreggiata per agevolare il ripristino del traffico. Molise Wellness Destination è il titolo del progetto promosso dal Consorzio Tump, questa mattina la presentazione alla stampa nell'incantevole scenario della Fonte del Benessere Resort, Centro Messeghè di Castelpetroso, sentiamo cosa si tratta nel servizio di Nicola De Santis. Tump è un consorzio nato allo scopo di promuovere, valorizzare, implementare le ricchezze del Molise in ambito turistico, sociale e culturale, paesaggistico, formativo, della ricerca e della salute, del benessere, dello sviluppo scientifico e tecnologico. Cinque realtà che rappresentano eccellenze assolute del territorio, riconosciute anche in ambito internazionale, hanno già aderito al Consorzio. L'azienda di Maio Norante, la Fonte del Benessere Resort e Centro Messeghè, la Fondazione Neuromed, l'Università degli Studi del Molise, la Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II. L'obiettivo finale è la crescita armonica della regione. Dobbiamo portare a termine alcuni progetti e quindi manifestarci, esprimerci con delle cose concrete. In modo da aver seguito speriamo di aprire il Consorzio ad altri soggetti importanti, non solo alla Molesana, a Vito Gamberale e ad altri, perché costituiscono un nucleo di forza, anche finanziaria, che possa sostenere i progetti che abbiamo in mente di realizzare. Questi progetti sono di diverso tipo. Ci sono progetti che sono di carattere territoriale, che sono destinati alle zone meravigliose che il Molise ha. E ci stanno tante cose che si possono fare, che però hanno bisogno di lavoro, hanno bisogno di impegno. Creare occupazione attraverso le innumerevoli ricchezze offerte dal Molise, drenare verso il nostro territorio flussi turistici, innalzare la qualità della vita di residenti e visitatori, utilizzare e non sfruttare le risorse con razionalità e consapevolezza sono solo alcuni degli obiettivi cui ambisce il Consorzio Tump e sono anche gli obiettivi già raggiunti dal centro Messeghè. Assolutamente sì, è un obiettivo comune. Il Consorzio penso sia nato proprio per questo motivo qui e ne fanno parte le varie eccellenze di questa regione e di conseguenza noi abbiamo contribuito per ciò che andiamo a realizzare poi all'interno dei nostri territori con quello che noi facciamo e abbiamo partecipato volentieri a questo Consorzio. La finalità ovviamente è quello di sponsorizzare i nostri territori che diciamo sono lasciati un po' così a livello nazionale ma il mio obiettivo fondamentale è sicuramente quello di realizzare la consapevolezza che il Molise effettivamente a livello paesaggistico non ha uguali se non regioni insomma più sponsorizzate ma solo per quello poi effettivamente noi abbiamo dei territori spettacolari e quindi all'interno di questi è facile anche operare con strutture come la nostra che diciamo puntano all'eccellenza. Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi indicati dal Consorzio Tump è necessario creare una rete tra tutti gli attori protagonisti. La regione dal canto suo assicura la propria vicinanza al Consorzio nella certezza che questo progetto può contribuire al rilancio del territorio. Turismo e cultura, questo progetto va in quella direzione perché è cultura dell'accoglienza, è cultura dell'ambiente, è cultura del benessere è cultura della promozione di un territorio per cui insieme con i partner di questo progetto credo che possa veramente incarnare quello che è la mission di turismo e cultura che è la promozione poi di fatto dell'intero territorio regionale. La regione ci crede, ci sta investendo molto in questo governo regionale sul turismo e la cultura, ritiene chiaramente che possa essere veramente il grande volano di sviluppo di questa regione. E ora andiamo a Termoli dove domani ci sarà il Consiglio Comunale monotematico sulla sanità mentre oggi si è discusso di bilancio consuntivo è stato accertato un disavanzo da 1.700.000 euro. Giovanni Cannarsa Strascichi di polemiche a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo a Termoli il Partito Democratico favorevole alla votazione prima della seduta si è successivamente astenuto nonostante il documento arrivato in assise civica doveva essere approvato dalla scorsa amministrazione comunale che oggi vede tra i banchi dell'opposizione l'ex sindaco Angelo Sbrocca il Partito Democratico ha preso le distanze dal documento criticando anche le parole utilizzate dall'assessore al bilancio Giuseppe Mortola che aveva definito il documento non veritiero il falso in bilancio hanno spiegato i consiglieri del Partito Democratico si prefigura quando esiste l'elemento soggettivo del dolo e l'assessore Mortola non ha fatto parola, Mortola era stato alquanto critico in quanto a conti fatti si sono evidenziati 1.700.000 euro di disavanzo che oggi in qualche modo il comune di Termoli dovrà recuperare disavanzo che invece l'ex amministrazione Sbrocca non aveva ereditato dall'allora sindaco Antonio Di Brino che dopo essere caduto aveva consegnato conti con 8 milioni di euro in attivo un braccio di ferro che ha allontanato centrodestra e Partito Democratico proprio su uno degli atti più importanti dell'ente che a detta dell'assessore è stato approvato solamente per guardare al futuro iniziare un nuovo cammino rispetto a quanto accaduto qualche mese prima un documento che doveva essere approvato dalla scorsa amministrazione comunale prima delle elezioni e che invece è stato uno dei primi banchi di prova per il sindaco Francesco Roberti Questa mattina nella sala consigliare del comune di Campobasso è stato presentato il progetto Open Fiber l'azienda costituita da Enel che investe 5 milioni per introdurre la fibra ottica in 16 mila unità immobiliari si occuperà dei lavori anche nel capoluogo per Gravina non ci sarà solo però disagio dovremmo scavare in strade appena rifatte dalla vecchia amministrazione la sua accusa ma occorre mettersi al passo La città smart e moderna che vuole il sindaco Gravina passa dalla fibra ottica l'idea dalla precedente amministrazione Open Fiber arriva a Campobasso con 5 milioni di euro di investimenti e un cablaggio di oltre 16 mila unità immobiliari Sono molto contento della collaborazione che abbiamo instaurato con l'amministrazione in quanto i lavori partiranno già da subito e noi cercheremo di chiuderli entro l'anno prossimo quindi entro il 2020 avremo tutta la città cablata Abbiamo approvato la delibera di giunta la settimana scorsa che dà il via in quel caso all'accesso ai finanziamenti regionali per erizzare la fibra ottica diciamo così nelle zone bianche quelle a bassa redditività dove chiaramente un'impresa privata non avrebbe interesse e invece lì ci sarà un finanziamento pubblico Ci vorranno 5 mesi per navigare più veloce la nuova rete dal 2020 permetterà alle zone vicine alla centrale di migliorare il rendimento di molte applicazioni dai nuovi decoder sky alla semplice navigazione su web prima le palazzine e poi più in là anche la copertura dei nuclei industriali invocata da molte aziende passi necessari per quando sarà il tempo del 5G la tecnologia di navigazione del futuro un passo alla volta i lavori per la fibra partiranno ad agosto quando molti uffici saranno chiusi e ci saranno minori problemi di viabilità si dovrà intervenire però su molte zone recentemente oggetto di rifacimento per Gravina l'unica nota dolente del programma quindi abbiamo sicuramente accelerato per avviare i lavori perché crediamo che un'infrastrutturazione così importante non possa essere perduta per la città di Campobasso al tempo stesso devo dire che abbiamo trovato collaborazione con l'azienda dovremo purtroppo, questo lo dico perché da Campobassano sono molto arrabbiato per questo dovremo rompere una parte di strade marciapiedi che sono state appena realizzate quindi con i lavori ben noti hanno prevalso evidentemente le logiche elettorali che poi altro ma i cittadini dovranno avere solo pazienza questo è il prezzo per il futuro è un lavoro enorme quindi non solo che faremo sul suolo comunale ma dovremo accedere a tutti gli edifici quindi non entriamo negli appartamenti questo è bene sottolinearlo ma entreremo nei piani quindi nei piani degli edifici per portare la fibra ottica fin sopra alle cassette che sono sui piani rottoli nei giorni scorsi il Molise è divenuto un polo formativo per il centro sud per le unità cinofile da ricerca della superficie del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per tre giorni 12 unità cinofile da ricerca che provenivano da Calabria, Basilicata, Abruzzo, Lazio, Piemonte e Sardegna sono state impegnate con i relativi conduttori in attività di formazione presso il centro di addestramento del servizio di protezione civile che si trova a Campochiaro l'attività è stata supervisionata dagli istruttori della scuola nazionale delle unità cinofile del soccorso alpino lo scopo di questo corso è quello di addestrare unità cinofile per l'attività di ricerca di persone disperse ed ora una notizia di servizio l'amministrazione comunale di Campobasso avvisa la cittadinanza che nei giorni del 2 e del 3 agosto dalle 23.30 alle 6 del mattino successivo si effettueranno interventi per la disinfestazione pertanto la popolazione è invitata a collaborare evitando di esporre alimenti e indumenti frequentando le strade solo se necessario le aree di intervento previste per il 2 agosto sono centro storico e centro murattiano compreso tra Sant'Antonio Abate, via Monforte, via Genova, via Roma Corso Vittorio Emanuele, via Elena Corso Bucci, via Cavour, via Garibaldi e via Cardarelli il 3 agosto invece gli interventi di disinfestazione riguarderanno tutto il resto del territorio comunale comprese le contrade e Santo Stefano è il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore Previsioni del tempo di mercoledì 30 luglio giornata caratterizzata dalla persistenza dell'alta pressione cieli sereni o poco nuvolosi temperature in aumento nei valori massimi con punte di urne di 35-36 gradi ventilazione debole e variabile a regime di brezza con mari quasi calmi o poco mossi queste le temperature dei maggiori centri della regione Campobasso minima 18, massima 32 gradi Isernia 17,33 Termoli 22,29 Venafro 18,33 Ed ora una brevissima pausa Restate con noi perché tra poco parleremo dell'amichevole del Campobasso disputata a Rivisondoli con la Juve Stabia 3 a 1 per la formazione di Serie B ma una bella figura per i lupi e anche altri argomenti Restate con noi tra poco E allora eccoci di nuovo insieme per parlare di calcio Un ottimo lupo ha tenuto testa alla Juve Stabia formazione neopromossa in Serie B e ha dato la sensazione di avere già appreso le idee tattiche di Mister Cudini è finita 3 a 1 per i campani in gol con Belek nel primo tempo in tuffo su assist di Melara Canotto ha segnato nella ripresa e Torromino dal dischetto per farlo di pistillo su un attaccante della Juve in mezzo sul 2 a 0 ha accorciato le distanze Giambè sfruttando una disattenzione scusate della retroguardia di Caserta in tribuna lo abbiamo visto il patron Mario Gesuè con accanto l'ultimo acquisto Danilo Alessandro e il direttore dell'area tecnica Luigi Mandragora non è passata inosservata invece l'assenza del presidente Nicola Circelli sugli spalti di Rivisondoli circa 150 sostenitori arrivati da Campo Basso e nel Tg di domani vi proporremo anche le sensazioni del dopo partita dei protagonisti del Lupo e sempre rimanendo a parlare del Campo Basso c'è un nuovo acquisto si tratta del giovanissimo talento che è pronto a confermare in rosso-blu tutte le sue qualità Joshua Tenkorang centrocampista classe 2000 cresciuto nella scuola calcio del Novara che è la sua città natale e nel settore giovanile della Pro Vercelli banta pure un'esperienza all'estero con lo sport club di Arminia Belfield in seconda Bundesliga tornato in Italia nel 2016 ha fatto le fortune della Rometiense Cerano poi è stato in Sardegna nella Nusei in Serie D ha sfiorato la promozione con questa squadra in Serie C e ha totalizzato 26 presenze e due reti voglio dare il massimo per la squadra ha detto speriamo di fare un bel campionato soprattutto di regalare belle soddisfazioni ai nostri tifosi sono felice di essere a Campo Basso per me sarà un'esperienza davvero importante Restando a parlare di Serie D occupiamoci del Vasto Girardi con l'intervista che abbiamo realizzato al presidente Andrea Di Lucente parla del mercato del fatto che manca ancora un centravanti da tanti gol e poi lancia una stoccata all'indirizzo dei vertici della società dell'Isernia sentiamolo è una squadra importante è una squadra che rispecchia quella che è la nostra realtà quindi non spese folli ma una squadra che può cercare di salvarsi e di fare un campionato dignitoso noi le cose per bene le abbiamo sempre fatte aspettavo questo momento per poter sbattere in faccia a tanti la realtà chi ci vedeva iscritti e giocare a Castel di Sangro chi non ci vedeva iscritti noi la voglia di fare calcio non l'abbiamo mai persa l'abbiamo sempre avuta e vincendo il campionato abbiamo dimostrato che si può fare calcio anche nelle piccole realtà in questi giorni avevo fatto un passaggio sull'Isernia ieri mi hanno contattato i tifosi dell'Isernia per ringraziarmi ma non era un passaggio dovuto chissà che fine era giusto esprimere il mio rammarico perché la decadenza del calcio si porta dietro tanti altri fattori che vanno dal sociale e rispecchiano un po' quelle che sono le nostre realtà e i problemi politici che attaggiano la nostra regione dispiace che una realtà come Isernia non riesce a trovare intorno a una squadra di calcio o una squadra di basket o una squadra di calcio a 5 come è stato negli altri anni un punto di riferimento un punto di incontro di più imprenditori che possono anche con un po' rilanciare quello che di poco ci è rimasto sul nostro territorio Mercato è arrivato Varsi che è un gran colpo cosa manca alla squadra? Manca una punta importante Varsi è un colpo arrivato prima della partenza per il ritiro era un colpo che non avevamo programmato è arrivato all'ultimo secondo questa opportunità e non ce la siamo lasciata scappare adesso la difesa è completa il centrocampo è un buon centrocampo perché il migliore acquisto che potevamo fare oltre a De Feo era Albino Fazio che ritengo uno dei migliori centrocampisti della categoria e adesso manca la punta manca quella punta che possa garantirci quei 15 gol 16 gol 17 18 quanti più ne possa fare per poterci salvare e questo era anche il nostro ultimo servizio che come sempre vi ricordo potete rivedere cliccando sulla nostra pagina facebook oppure sul sito teleregionemolise.it grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti